Mio figlio era dipendente da Poppy Playtime e mentre giocava, Cutnap è uscito dal suo iPad e lo ha ucciso. Aspetta chi è stato? Sono io, ma non mi farai nulla perché mi glono. Aspetta, quale dei due è reale? Aspetta forse lui, o lui, o... Ora fumo dalla bocca. Ok, ok, fammi vedere. Fumo. Evviva l'aggiornamento. Wow, ogni volta che uccido il falso Cutnap sto diventando più realistico Cutnap. Ok, prima di tutto mostrami i tuoi jumpscare. Possono essere reali. Secondo. E ultimo. Wow, sto bene. Prova. Ok, bene. Un po' sospettoso. Sei sicuro? Ma va bene. Quarto. Ok. Bene, ora tu. Era un po' sospetto. Ma resta vivo. Ora tocca a te. Trovare quale è reale. Questa è buona. Ora la donna del sonnellino. Era abbastanza reale. Per favore. No, falso. Mi sento aggiornato. Questo sembra così buono. Ora tu. Mi spaventa. Vero ma. Bambino. Ora lui. Era abbastanza reale. Ora tu. Buono. È rimasto solo un coupé. Andare. Buono. Non spaventoso ma reale. E ne sono rimaste solo due. Andare. Ok. E l'ultimo. Um. Era sospetto. Perché sembrava un personaggio diverso. Ma vi lascio. Avevi ragione. Per ora. Ora mostratemi le vostre facce. Ok. Può essere reale. Il secondo. Oh ma no. Torna indietro. Questo è Sus. Mr. Poppy Playtime. Ok terzo. Candy Barbie. Penso che potrebbe essere lui. Nani? Perché è un troll. L'uomo della pizza? È falso. Wow aggiornamento. Wow. Tu. Cosa? Poppy è stato lui per tutto il tempo. Sesto. Abbraccio. Spero che non mi trovi. Sembra falso. Ora bambino. Hamburger boxy? Ora è il prossimo. Piatto. Prossimo. Mamma. Queste sono le possibili persone che potrebbero essere lui. Cosa è questo? E ultimo. Uccello opila. Non c'è modo. Falso. Aggiornamento. Wow ho fatto l'upgrade. E sembro illuminato. Quindi ora mostrami come usi il tuo respiro. Falso. Aggiornamento. Wow ho fatto. Sei pronto. È il momento di fare il jump scare. E sembro illuminato. Quindi ora mostrami come usi il tuo respiro. Bene. Ora tu. Ora lui. Non mi farò vedere. Non giudicarmi. Era brutale. Davvero brutale. Ora lei. Sembra reale. Ora tu. Aspetta cosa. Wow. Sembra finto. Ma io ti lascerò. perché tu sei un po' troppo. Ora tu. Ok. Tu. Sei falso per me. Ok. Lui era falso. Quindi ora lui. E' buono. Il tuo turno. Bello bello. Ora lui. Ok. E ultimo. Anche finto. Ah andiamo. Aggiornamento per me. Wow. Sembra un robot. Ora dite qualcosa o cantate. secondo. Secondo. Smiling Critters Cuttap every day. Bene. Ora tu. Ok. Welcome to the Smiling Critters Cuttap. Spero che non mi trovi perché sono uno vero. Il prossimo. Why do Smiling Critters choose? Bene. Ora lui. Smiling. 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 Buono. Prossimo. Ho ho ho. Cuttap cuttap. Ho ho ho. Cuttap cuttap. Che diavolo è questo? Sei falso. Cane. What? Lo sapevo. Ora tu. Hold up. Wait a minute. What are you doing? Che diavolo è? I just got cuttap shake. Mmm. That sounds delicious. This is a morire. Ok? Voi due. Cantate insieme. Bene. Aggiornamento. Smiling. Smiling. Wow. Ora Cuttap. Era bravo a nascondersi. Quindi il punto peggiore viene eliminato. Vai. È tempo di cercare. Aspettare. Vedo qualcuno. È un brutto posto. Esci. Entra dentro. Forse su questa sc... Cala ora. Avevo ragione. Esci. Era un buon posto. Quindi sei un tipo sveglio. H.M. Controlliamo. Lo sapevo. Esci. E aspetta. Oh no. Vedo qualcuno. Ti ha preso. Pum. Ne abbiamo trovati molti. Fammi vedere qui ora. Lo sapevo. Ma ce ne sono altri. Vi ho preso tutti. Entrate. Avete avuto dei brutti nascondini. Quindi non siete sus. Ok. Ora ho bisogno di una radiografia. Wow. Questo è un posto pazzesco. Tu sei super sensibile. Aspetta. Vedo qualcosa lì. Ma non c'è nessuno. Oh e il prossimo è qui. Vieni fuori. Brutto posto. Ne sono rimasti solo due. Un e questo posto sembra buono. Lo sapevo. Non qui. Devo imbrogliare. Aspetta. Chi è questo? Ok. Ehi il miglior nascondini. Mindy muori. Era Ubiwagi. Così falso. Ora lancerò la pozione di bellezza. E vedrò cosa esce fuori. Fratello. Ora tu. Questo non è bello. Il prossimo. Wow ok. Bru. Ora tu. Che cos'è questo? Ora lui. Ragazza robo. Ora lui. Wow. Due a sinistra. Wow. E ultimo. Donna tv. Lascia che ti va. Oh no. Morire. Holy Jesus. Ok ora mostrami cosa succede dopo aver mosso la coda. Oh. Ora lui. Ha scoreggiato. Può essere reale. Tu. Che diamine. È il tuo turno. Puoi essere tu quello vero. Il tuo turno. Fratello che diamine. Il prossimo. Aspetta. La sua coda è strana. Non riesco a toglierla. Oh my god. Oh. È strano. Il prossimo. Vediamo. E adesso polifero. Ok. Ora tu. Si è trasformato in gatto. Non posso uccidere nessuno in questo momento. Aspetta. Mi sento aggiornato. Wow. Ora mostrami i tuoi ricordi. OMG. Ha usato il fumo. E loro sono morti. E lui è andato alle loro tombe. Potrebbe essere un ricordo reale. Successivo. Oh no. Il giocatore lo ha tradito. Può essere reale. Ci proverò perché non sono reale. Oh no. Ciao catnap. Ciao catnap. E io lo abbandonerò. Ora tocca a te. Oh no. No. Oh mio dio. Oh mio dio. È così triste. Può essere un vero e proprio sonnellino. Ora è il quarto. Ora è il tuo turno. Hai tagliato un pilastro. Questo è male. Guarda la sua faccia. È così triste. È così vicino. Devo cambiare la mia voce. Li ho appena uccisi. Il prossimo. Ciao bambini. Ho un paio di ricordi. Vediamo. Tutti gli Ugi Ugi stavano cercando di dividerti a metà. Che tristezza. Il prossimo. Hai usato il tuo respiro per uccidere Critter sorridente. Questo è male. Molto male. Ora lui. Il giocatore ha usato il suo zaino per far fuori i bambini dalla nascita. Aspetta. Ma non è la memoria del gatto. È la memoria dei giocatori. Ti ucciderò. Era Jax. E l'ultimo. Prima mi hanno gettato in una macchina tritatutto. Stava baciando le gambe lunghe della mamma davanti alle gambe lunghe del papà. E è stato davvero brutto. Stava piangendo per questo. Ma poi papà a gambe lunghe si è vendicato. Ok. Sei al sicuro. Ok. Ora disegnati. Ok. Il primo è bello. Il secondo. Perché c'è un coltello. Il prossimo. Questo sembra strano. E questo è rosso. Suf. Aspetta. È un giocatore. Morire. È un cane. Morire. Mi sento aggiornato. Che diamine. È questo. Ok. Ora Katnapa ha fatto un salto in alto. Vince chi salta più in alto. Tu hai fatto il salto peggiore quindi eliminazione. Bene. Ok. Ora mostratemi di nuovo i vostri ricordi. Che diamine. È questo. Ok ora Katnapa ha fatto un salto in alto. Vince chi salta più in alto. Per favore non giudicatemi. Ok. Sono il primo. Buona la prima. Ok. Saltiamo. Così vicino. È il mio turno. Così vicino. Andiamo. Andiamo. Bru. Andiamo. Sono in cima. Andiamo. Ne sono rimasti solo tre. Cosa? Ne sono rimasti solo due ma io sono quello vero. Spero che non mi troverai. Tu hai fatto il salto peggiore quindi eliminazione. Bene. Ok. Ora mostratemi di nuovo i vostri ricordi. Il giocatore stava baciando una signorina baciata. Questo è strano. Sei falso per me. Morire. TV donna. Cosa? Sono rimaste solo quattro. Mi chiedo quale sia quello vero. Il tuo turno. Così Katnap era con i suoi amici e stava combattendo con Ubiwaki. E loro lo hanno spaventato. Questo può essere vero. Ora tu. Che diavolo è questo? Brotha no no no. Questo è inappropriato e cattivo. Ora è il terzo. Un ragazzo lo ha usato e l'altro ragazzo è morto. E l'ultimo. Qualcuno ha mangiato il suo hamburger da McDonald's e poi Poppy lo ha ucciso. Questi sono ricordi reali. Ne rimangono solo quattro. Ok. Ora ha un compito davvero difficile. Voglio vedere la tua reazione al bacio della mamma con le gambe lunghe. Non mamma gambe lunghe. Bacialo mamma. Ti è clonato da solo. Oh no. Questa è una reazione strana. Ora tu. Reazione strana. Sono diventato un mostro. Ma va bene. Andiamo mamma. Il prossimo. Cosa? Ha vomitato. Questo è male. E l'ultimo. TV donna. Cosa? Eliminazione. Sono tre rimasti. Questo non è catnap. Morire. Ne rimangono solo due. Quindi indovino. Questo è falso. Quindi sei vero. Hai ragione. Ti amo. Qualcuno mi ha allungato. Mamma. Papà. Popcat mi ha trollato. Che cosa? Per favore non parlare. Devo imparare. Wow wow. Sono intelligente. Secchione. Secchione. Perché hai trollato tua sorella? Cosa? Oh my god. Mi ha fatto male. Non ero io. Non ti credo. Inizia a sollevare. Aiutami. Di notte. Le mie ossa. Aiuto genitori. Dove sono? Guarda cosa gli hai fatto. Se perdi, sei fuori dalla nostra famiglia. Ma non ero io. Sei stato tu. Inizia. Oh me ha rubato il mio. Non può. Devo imparare. Wow l'ho fatto. Fammi imparare dove è il suo punto debole. Qui. Ah. Difficile. Cosa non piace ai King Kong? Dita. Facile. Vediamo come saltare più in alto. Bello. Sta arrivando. Godzilla. Ah. L'ultimo. Non può essere così. Enemy spot. Oh my leg. Per favore no. Non ero io. Davvero. Ti odio. Non tornare più. La note successiva. Sono troppo alta. Genitori. Sto chiamando la polizia. Sono così triste. Sei arrestato. Cosa? Non funziona. Dimmi cosa hai fatto. Non lo so. Come niente. Stai allungando la gente di notte. È falso. No. Prigione. Sono troppo intelligente. Uscirò. Guarda. Ha perso la chiave. Facile. Facile. Veloce. Hai. È stato disgustoso. Sei troppo intelligente. Dove mi hai portato? Dobbiamo renderti stupido. No. Ti prego. No. Sono così stupida. Non so come camminare. Non può essere così. Devo imparare. Wow. Matematica. Cosa? Abbiamo bisogno di te. Perché? Cosa hai fatto? Mi dimetto da questo lavoro. Oh. Ok. Ok. Prima di tutto. Hulk. Non ho fatto niente. Oh my god. Ok. È accaduto. OMG. Fratello. Vediamo cosa hai fatto. È stato catturato mentre distruggeva edifici. Mostrami il filmato. Qui signore. Grazie fratello. Ridammi mio figlio. Mai. Dai ridammielo. No. Mi piace e sottoscrivi la casa uguale per questo bambino. Wow. Era triste. Stavi cercando di salvare tua figlia. Grazie. Ha bevuto la pozione ed è diventato verde. Aspetta. Questo è davvero brutto. Vai qui. Ha vinto un gioco di tiro alla fine con i calamari grazie ai suoi muscoli. Va bene. Sei libero. Bello. Il prossimo è difficile. OMG. Gru e i Minions. Cosa? Liberi. Lasciateci liberi. Ha rubato la luna. Questo è male. Usciva con le ragazze Minions. E M. Questo è strano. Gruto. Cosa? Ha sganciato una bomba nucleare sulla terra. Aspetta questo è super cattivo fratello. E l'ultima cosa. Ha fatto uscire il virus dal baratono con il dottore. Aspetta. È vero? Sì. OMG. No. Ehi. Vai in prigione. No. Sì. Dammi la prossima. Il prossimo. PB. Cosa? OMG. Sembra un'immagine di chatta. Lasciami in pace. Smettila. Vediamo cosa hai fatto. Stava creando i bambini. È ingiusto. Smettila di farlo. Ha un coltello in tasca. Stava scavando sotto la prigione. Hai scavato sotto la prigione? No. Prendetela. Ehi. Torna indietro. Mai. Per favore. Mio bambino è triste. Oh. È triste. Vieni con noi. Troveremo una casa per il tuo bambino. Ma tu andrai in prigione. OMG. Questo lavoro è difficile. Amici dell'arcobaleno. Ho sentito parlare di te. Io sono buono. Ha iniziato a sparare al supermercato. Wow. È troppo. Il prossimo ato. Ha dato fuoco alla sua scuola. Fratello. Smettila. Questo è male. Il prossimo. Ha punito l'insegnante con un trucco orribile e i capelli bruciati. Sei cattivo. Vai nella tua cella. Sei libero per questo. Grazie. Finalmente. Devo imparare di più. Wow. È molto. Ok. Sono pronto. Genitori. Statisticamente è impossibile che sia tornato. Non mi importa. Torna quando sarai più forte. Ok. Ok. Devo allenarmi come un professionista. Wow. Sta funzionando. Ora il mio cervello dice di sollevare. Cominciamo. Con molto beaucoup. Ecco. Il prossimo. Wow. Guardami. Difficile. Ma funzionante. Ce l'ho fatta. L'ultimo. Ah, lavorare come sempre. Perché ti sta facendo questo? Genitori, ora posso risolvere chi sta facendo questo. Wow, sì. Di notte. Ok bello, dormire. E mi nasconderò qui. Sei dolce. È ora di prenderlo. Torna indietro. Ah, ti ho preso. Dove è andato? Sto entrando. Vieni qui. Dove sono? È scappato. Vediamo cos'è questo. La vita dell'amico arcobaleno. Dacci i tuoi soldi ragazzo. No, aiuto. Ehi, fermati. Oh mio Dio, grazie. Vuoi essere la mia ragazza? Sì. Vuoi sposarmi? Mi prendo i tuoi figli. Troveremo i nostri figli. Non preoccuparti. Wow, questa storia era triste. Ma ho perso lui. OMG, lei è così alta. Aiutami. È troppo. Sto richiamando la polizia. No, per favore. Non se ne parla. Il mio vecchio lavoro. Ciao, sono un uomo davanti alla finestra. Ha rotto le ossa ai bambini. Male, male, male. Si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava. E' strano ma va bene. L'ultimo. Si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino. Strano e illegale. Andrai in prigione. Il prossimo. Non c'è modo. Vieni qui Gargamella e i Puffi. Sì. Hanno attaccato la città dei piccoli Puffi. Fecero una zuppa di Puffi. Ha schiacciato le case dei Puffi con il suo piede. Ok, sei una persona cattiva. Ma tu sei libero. Bello. Oh no. Jenna. Vieni qui. Smettila di baciare. Aiuto. Ok, vediamo. Aveva una cotta per PopCut. E ne mi sento strano a... Bene. Ha hackerato il computer di PopCut. Stava insultando in un gioco per bambini. Bello bello. Vai in prigione. Puoi andare. No. Ah. Easy. E' ora di risolvere l'ultima domanda. Ho lavorato su questo per così tanto tempo. E so come prenderlo. Ah. No, non l'ho fatto io. Siete arrestati. Ciao a tutti. Ti io ho preso. Quindi ora devo giudicarvi. Ma prima. Wait a minute. Non ho fatto nulla di male. Are you sure about that? Aggrediva i bambini all'asilo. Truffava la gente per soldi. Non è un bravo ragazzo. Non mi interessa. Stop. Lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui. Dio mio. Sei una persona cattiva fratello. Prossimo. Prendevano i giocatori e li schiacciavano. E' vero questo? No. No. Sì, lo era. No. E' il tema. Cattivo. Che evitavano le persone alla fabbrica. Bene. Cambiavano le persone in giocattoli. Oh my God. Molto male. Andrai in prigione. No. No. Oh no. Il giocatore è il prossimo. Sei stato in prigione? Sì, mi dispiace. Faceva il bullo a Ugiwaki. Non bene. Mi dispiace. Questo è per te. Oh grazie. Questo è stato bene. Apriva le porte con il suo grab pack. Ha gettato papà e mamma long legs in una tritta carne. Non sei così cattivo. Sei libero. Ok, solo due rimasti. Ciao, sono un mangiatore di treni. Attaccava i nemici ai binari e li faceva investire. Dio, era brutto fratello. Non bene, non bene. Mi dispiace. Vediamo il prossimo. Demoliva gli edifici. Perché? Non lo so. Bro. No, 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 no. Sei cattivo. Mangiava i bambini dopo averli presi. Sei super cattivo. Qui, per ultimo. Perché hai fatto questo? Posso mostrarti. Vuoi vedere la mia faccia? Sì. Katnab è morto. Smilling Critters. Forse tu? Voleva sempre farci dormire. Allora forse tu Dog Day? Mi ha tagliato la gamba. Anch'io ti amo. Anch'io ti amo. Cosa? Per favore no. No. Leapy. Please. Just go. Run. Run. Ma sei uscito. E allora? Stavo cercando di prenderlo ma lui ha usato il gas. Ho bisogno di scappare. Ah, dove pensi di andare? Per favore no. Oddio, no. Forse Miss Delight? Mi ha fatto schiantare. E poi qualcosa mi ha preso. No, 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 no. Ok, allora forse Pink Pig. Aveva una respirazione disgustosa e la gente stava morendo. Oh mio Dio, ho bisogno di quel nuovo modello di donna cutnab ma aspetta. Brother, no, 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 no. Oh no, la coda è troppo lunga. Ah, andiamo. Ti amo. Anch'io ti amo. Aspetta, vedo un naso di Boba Fanta. Mi ha tagliato il naso e ne ho uno nuovo. Che giornata meravigliosa. Cosa? Ah. Ho bisogno di prenderne uno nuovo. Ah, ora posso vendicarli. Aspetta cosa? Il prossimo è Ugi Wagi. L'ho portato a provare tutti i jumpscares al museo. Oh mio Dio, questo è Ugi Wagi. Ma aspetta, cos'è quell'interruttore? Oh mio Dio, questi sono jumpscares. Devo controllarli tutti. Andiamo con il primo. Tu, Poppy, ha ucciso Kissi Missi. No, per favore, non farlo. Ah, è finita per te. Cosa è successo dopo? Volevo salvarla ma lui mi ha mangiata. Devo aiutarla. No. Ti mangerò, ah. Oh mio Dio, sono dentro di lui. Ho un'idea. Posso farlo esplodere, ah. L'ha ucciso. No, te lo prometto. Poppy è morto. Cosa? Chi è alla porta? Ciao a tutti. Aspetta, forse sei stato tu a fare questo? Per prima cosa Katnab ci ha sparato addosso del gas. Così l'ho buttato nel bidone. Ah! Ok, questo è un po' sospetto. Aspetta cosa? Prototipo. Non ha fatto il suo lavoro. Così l'ho fatto scattare con l'elettricità e gli ho messo la lama in bocca. Oh mio Dio, quindi l'hai mutato. Chi potrebbe essere? Cosa? Chi sei? Sono una creatura normale e sorridente e nessuno mi ha voluto così. Sono stato gettato nella spazzatura. Per favore, non fatelo. Ah, è finita per te. È stata una mia idea. Oh mio Dio, sta arrivando qualcuno. Aspetta, chi? Qui, qui, qui. Oh mio, che cos'è? Questo tipo di Katnab ha ucciso mio figlio. Sono d'accordo, il mio ca... Odio i Katnab. Non so cosa ci faccio qui, ma mi piacciono le proteste. Aspetta, sta arrivando qualcuno. Cosa sta succedendo qui? Sono l'amministratore delegato di Poppy Playtime. Hai ucciso Katnab? Vendevo questi giocattoli, ma non sapevo che avessero quelle cose al loro interno. Quindi sei tu la persona cattiva. Oh no, dov'è il corpo? Le macchie di sangue portano lì. È Boxy Boo, lo sapevo. L'hai ucciso tu? È un regalo per le vacanze, ma tutti hanno preferito Katnab a me. Cosa sta succedendo? Cosa? Per favore no. Cosa sta succedendo a me? Cosa è quella cosa dietro la finestra? Cosa è questo suono? Devo controllare. Cosa? Dog Day, per favore no, no, no. Ah, l'abbiamo preso. No, no. Sto cambiando. Cosa c'è di sbagliato in me? In cosa mi sono trasformato? Vido. Che succede? È morto, Katnab. Forse tu? Dog Day mi ha lanciato una palla e io non ho reagito. B***a! Go, go! As far as you can! Why are you... Just standing there? What do you... Ok, allora ora Kicking Chicken. Ho fatto un sacco di uova. Vedo del cibo qui. Sta attaccando. Cosa? No, no, no. I tuoi figli hanno ucciso Nightmare Cutnab? No, è andato solo in ospedale. Ok, quindi forse Carlos. Stavo fingendo di fronte al prototipo di essere un gatto da incubo. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è qualcosa che non va. Due Cutnabs. È falso. Lo giuro. Dobbiamo controllarlo. Prima, i jumpscares. Ok, ok, ora tu. Ok, punto per te. Ora canta per me. Che diavolo di prototipo. Sai che non so cantare. Sarà facile. Vittoria facile per te. Ah, facile facile. Ok ragazzi, ora fumate per me. Ok, ok, ora tu. Punto per te Cutnab. Ok, ora vediamo che piatto hai mangiato per cena. Prima tu. E tu. Punto giusto per te. Ok, l'ultima cosa. Sentiamo la tua voce. Per favore, no, sono malato. Non mi interessa. Vediamo. Wow, 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 è stato grande Arianna grande. Ora tu. No, 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 sei falso. Ok, allora che mi dici della donna Cutnab e della donna Dog Day? Siamo stati trattati male. Ti salverò. Ora tu. Ah, vieni con me. Cutnab, voglio dire qualcosa. Come cosa? Ho solo bisogno di... No o no? Forse il player? Stavo cercando di Poppy Playtime. Cosa? Dog Day? Che succede? Stavo combattendo con lui su chi fosse più spaventoso. Ok Dog Day, vediamo chi fa più paura. Va bene, allora penso che vincerò io. Ok, la prossima è Miss Delight. Così ho voluto insegnargli qualcosa. Oh mio Dio, la prossima lezione. Ciao Cutnab, oggi impareremo la matematica. Risolviamo questo. Ok, sono pronto. Cos'è due più due? Lo so, lo so, sono le cinque. No, non lo è. Ok, ok, il prossimo. Che cos'è? Pacchetti Amazon? Non è possibile. Vediamo cosa c'è dentro. Cosa? Signore, mi stavano prendendo in giro. Ok, allora cosa c'è nell'altro pacchetto? Oh no. Stavamo facendo un pigiama party ma poi è arrivato Cutnab e ha usato il come. Abbiamo bisogno di un pigiama party, abbiamo bisogno di fare festa. Voi ragazzi fate un pigiama party senza di me. No Cutnab non è vero. Vi odio, ragazzi. Interessante, drago sdentato. Giuro che non ero io. Ero in un bar con una ragazza e poi... Wow sdentato, sei il migliore. Sì, ragazza, lo so. Andiamo a fare una festa. Ehi ragazza, guarda il mio ballo. Oh mio Dio. Cosa? Non può essere così. Ok, prototipo. Penso che tu voglia dire qualcosa. Volevo che testasse tutti i jumpscares e che si aggiornasse. Per trasformarsi in Cutnab bisogna controllare tutti i jumpscares. Ok, allora. Il primo. Il prossimo. Smiling Critters che odio. Mi sento aggiornato. Cosa c'è di sbagliato nella mia faccia? Ora Miss Delight. Questo è stato spaventoso. Il prossimo è il Dog Day. Oh mio Dio. Oh no, è Ugi Waki. Il prossimo è Normal Cutnab. Oh no, questo sarà spaventoso. Sono già quasi morto. Incubo Cutnab ora. È stato super spaventoso ma mi sento meglio. Wow sono ancora più bella. Ugi Waki. Ora Poppy. È stato brutto. Ok, paga a Pillar. Vediamo. Non può andare peggio. Il prossimo è Kissi Missi. Ok, aspetta. Cos'è questa cosa? Mi sono trasformato in una donna. Ora Dino. Il prossimo è Poppy Sunflower. è stato spaventoso. È stato spaventoso. È stato spaventoso. Ok, forse è la famiglia. Così Cutnab ha usato il fumo su di noi. Beautiful! Wow wow wow! Katnab! Oh mio Dio, sei il fratello di Dog. È odiato nella famiglia di Cutnab e mi hanno tagliato le gambe. Per favore no no no, ti metteremo le catene. Quindi l'hai ucciso? No, mi hanno sparato del fumo. No ragazzi, per favore no. Ok, forse Miss Delizia? Stavo cercando di prenderlo ma qualcuno ha chiuso la porta e mi ha colpito. Oh mio Dio, signorina Delizia. No, no, no. Devo essere più veloce. Ah, facile facile. Ok, il prossimo. Stavo cercando di ucciderlo con il fumo, ma il mais astuto ha usato il suo corno e mi ha ucciso. Ah, è finita per te. Non credo che sia così. Cosa? No, 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 no. Oh mio Dio, non riesco a vedere nulla. Ok, è comprensibile. Prototipo? Così ho ucciso tutti uno per uno. Vi ucciderò tutti. Il primo è Ugi Wagi. Ah, il prossimo è Mamma Gande Lunghe. Ah, ora Cut Nub. Ah, ora Cut Nub. Ok, il prossimo è Dog Day. Ora Ceo. Per favore, no, no. Ok, ora Poppy. Ah, e ora l'ultimo. Non credo proprio. Oh no. Ok, ok, forse 7 Dog Days. Così sono entrati dentro di me e ho vomitato tutto su Carnar Nightmare. È finita per te, Dog Day. Non mi sento molto bene. Cosa vuoi dire? Ah, sarete tutti cambiati. Prima tu Dog Day. Ora Miss Delight. E ora Cut Nub. E per essere più realistici dovete infrangere tutte le regole del parco giochi. Prima devi spaventarmi con un jump scare. Ok, andiamo. I tuoi jump scare sono terribili. È il mio turno per denti. Ok, ragazzi. Dobbiamo entrare e ho un'idea. Scaviamo. Andare. Possiamo entrare ora. Evviva. Siamo dentro. Aspetta. Credo che abbiamo infranto una delle regole. Stiamo per essere aggiornati. Wow. Siamo più realisti. La prossima regola è... Niente creature sui denti. Oh mio Dio. Cos'è quello? No, 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 no. Evviva abbiamo infranto la regola. E ora stiamo ricevendo un aggiornamento. Oh mio Dio. Non si arriva dal lato sbagliato dello scivolo. Ok, ragazzi. Dobbiamo andare da questo lato. Ragazzi. Non credo che sia una buona idea. Perdente. Ragazzi dove siamo? C'è qualcosa dietro di noi. Cosa? Oh mio Dio. No, no. Sgoa è stato super spaventoso. Prossima regola. Niente pacchi Amazon. Ehi, ho dei pacchetti per te. Ok ragazzi. Vediamo cosa c'è dentro. Aspetta. Cos'è? Oh no. È l'incubo di Ugiwagi? Ci sentiamo aggiornati. La vita è un dolore. Ma abbiamo un altro aggiornamento. La prossima regola è non usare i gas di Katnab. Ah, questo sarà facile. Ok, sono pronto. Mettiamo un po' di gas dentro. Aspetta. Cosa stai facendo? Fermate. Jessica ti amo. Aspettate. Cosa stai facendo? Un'altra regola è stata infrata. La prossima regola è niente jumpscare. Ah, la mia prima vittima. Aggiornamento. Sono così bello. Non è pronto per questo. Prossimo aggiornamento. Bello. Ok, vedo una persona laggiù. Prendiamolo. Ah, facile. Wow, sono meraviglioso. La prossima regola è di non far scivolare più persone contemporaneamente. Ok, facciamolo. 3, 2, 1, vai. Ragazzi, siamo rimasti bloccati. Questo parco giochi è così bello. Diamo un'occhiata a questo scivolo. Cosa? Aspetta ragazzo, no, no, no. La prossima regola è che non si può stare in piedi e scivolare. Andiamo. Ok, sono qui in piedi. Il mio ultimo hamburger era così buono che sto per scivolare. Aspetta, no, no. Oh no, siamo rimasti entrambi bloccati. Aspetta, cos'è questo suono? Oh no, credo di dover scoreggiare. Oh mio Dio, per favore no. Cutnab, perché hai un odore così cattivo? Non importa, ma abbiamo un altro aggiornamento. Ok, ragazzi, tenetevi pronti. Oh mio Dio, siamo ancora più spaventosi. La prossima regola è di non mostrare le facce della vita reale. Ok, vediamo tutte le loro facce nella vita reale. Prima cutnab, cosa interessante. Prossimo pollo, Peter Griffin. Strano, ora creatura rossa. Non c'è modo, ora elefante. Reale, incubo Ubiwaki. Quello che sapevo, unicorno. Fratello, il prossimo dog day. Ha senso, è l'ultimo. Che diavolo. È tempo di aggiornamenti. Aspetta, perché non abbiamo avuto un aggiornamento? Penso che dobbiamo infrangere altre regole. Non si canta. Cantiamo. Non ce la faccio più. Fermati. Finalmente. Evviva. Facciamo una festa. Vi state divertendo senza di me? No, ma la prossima regola è stata infranta. Andiamo. Ma ancora niente upgrade. Penso che dobbiamo infrangere un'altra regola. La prossima regola è non mangiare creature sorridenti. Aspetta. Non siamo creature sorridenti? Non mi interessa. Sto per scoreggiare. Per favore. No, no, no. Regola infranta. La prossima regola è non scavare. Scaviamo una buca. Aspetta. Cos'è? Giorno del cane? Comunque regola infranta. Finalmente posso sentire la prossima evoluzione. Wow, ragazzi. Siamo davvero fantastici. Evviva. La prossima regola è non uccidere le persone. Aspetta. Cosa significa? Cosa? Siamo morti? Quello è Dio. Sì, sono Dio. Cosa ci fai qui? Non vi lascerò ancora morire. Ragazzi. Questo è strano. La prossima regola. Niente cacca. Facciamolo. Sono pronto. Che diavolo è questo? Non ce la faccio più. Sono l'amministratore delegato del libro dei record del mondo e penso che qui abbiamo un record del mondo. Oh mio Dio. Non è possibile. Dio, sento la prossima evoluzione. Sembriamo più realistici. La prossima regola è che non ci sono gatti da incubo. Ok. Tiriamolo fuori. È spaventoso, ma dobbiamo liberarlo. Che diavolo? No, no, no. Ce l'abbiamo fatta, ma aspetta. OMC è cibo quello. Cosa? È stato terribile, ma la regola è stata infranta. Qual è la prossima regola di Katna? La prossima regola è non alterare. Chi è questo? OMG è così sexy. Ehi, ragazza. Oh mio Dio. Sì, sì. Perché devo guardare questo? Mamma mia. Wow, bambini, guardate qui, c'è il vostro papà. Aspetta, dove è tuo padre? Mamma, mamma. Dove è papà? Non ce la faccio più. Katnab, cosa stai facendo? Ok, ragazzi, stiamo per avere la prossima evoluzione. Wow. Aspetta, perché non c'è un aggiornamento per me? Penso che dobbiamo infrangere la prossima regola. Ok, ma qual è la prossima regola? Niente gambe lunghe. Ok, ho un'idea. Prendete questo. Vedo la nostra vittima. Mamma gambe lunghe, vieni qui. Abbiamo del buon succo fresco per te. Per me? Prendine ancora. No, no, no. Aiutatemi ragazzi. Non mi sento bene. Cosa abbiamo fatto? Hanno quasi infranto tutte le regole. Aspetta, che diavolo è questo? No, 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 no. Questo è brutto. Non toccatemi più. Ok, la prossima regola è non guardare la tv. Che bella tv. Non credo sia una buona idea guardare questa tv. Non mi interessa. Wow, questo film è fantastico. Che succede? Cosa? Questa tv è così maledetta. Qual è la prossima regola? Niente gravidanza. Oh mio dio, credo che avrò un bambino. Spingi ragazza, spingi più forte che puoi. Aspetta, questi sono mostri? Andiamo. Finalmente sentiamo il prossimo aggiornamento. Wow. Infrangiamo altre regole. Niente trolling nelle bocchette di ventilazione. Penso che possiamo entrare. Oh, Ugi Uagi, sei così carino. Cosa sono questi rumori? Devo vedere. Cosa state facendo? Dog Day non è come sembra. Perché le donne del giorno del cane? Non ce la faccio più. Sono ancora traumatizzato. Non preoccuparti. Dog Day è il momento della prossima regola. Non sono ammesse persone belle. Quindi penso che dobbiamo migliorare il nostro aspetto. Sì, abbiamo un aspetto terribile. Iniziamo la trasformazione. Vediamo ora. Dog Day è diventato Gigachad. E io sono diventato gorilla. Ok, la prossima regola è... Niente fan club. Non abbiamo nessun fan club. Ma credo di conoscere qualcuno. Cutnab, ho bisogno del tuo aiuto. Che succede? Ho bisogno che tu chiami il tuo fan club. Oh no, ma va bene. Cutnab, Cutnab, oh mio dio. Stanno arrivando. È così divertente. No, no, fermati. Lasciatemi in pace, ragazze. Cutnab è morto. Oh no, ma aspetta. Miss Delizia. Oh no. La prossima regola è... Niente gattini. Ragazzi, ho dei regali per voi. Oh mio dio, dove sono? Venite con me. Wow. Aspetta, cosa stai facendo? I gattini sono proibiti. Il gattino lo attacca. Buon gattino. La prossima regola è... Non usare il grab pack. Devo chiamare il mio amico. Qualcuno mi ha chiamato. È il momento della corsa veloce. Regola in front a... La prossima regola è che il giorno del cane con le catene è proibito. Ho un'idea. Oh ciao fratello, è un piacere conoscerti. Mi dispiace. Scusa per cosa. Ora ragazzi, ora. No ragazzi, per favore no. La prossima regola è il divieto di usare il braccio prototipo. Ok. Ragazzi, dobbiamo trovarlo. Potrebbe essere qui. Ehi, ciao. Ciao ciao. Oh mio dio, catnab. Stringiamoci la mano. La prossima regola è niente pipì. OMG, andiamo. Dog Day, penso che questo sia troppo. Oh sì, sì, sì. È così bello. Grazie a Dio. Eww. Oh no, ci sto affogando dentro. Finalmente ho finito. Miss Delight. Ma la regola è stata infranta. La prossima regola è che il pavimento non è lava. Cosa? Il pavimento è di lava. Dog Day salta veloce. Wops. Che cos'è? Chi ha fatto questo? Era un Dog Day. Cosa? Tu piccolo. Ah. La prossima regola è che non ci sono persone grasse. È ora di mangiare come un nicocado. Oh mio dio, sembra delizioso. Wow, controlliamo il mio peso. Oh no, è troppo pesante. Troppo pesante per questo mondo. La prossima regola è che non ci si può togliere i vestiti di Miss Delight. Cosa? Non voglio farlo, ma devo farlo. Oddio, i miei occhi. Non voglio vedere questo, fratello. La prossima regola è non valutare i jump scares. Per infrangere la prossima regola devi votare tutti i personaggi di Poppy Playtime di tutti i capitoli. Ok, facciamolo. Prima Smiling Critters. Non spaventoso. Il prossimo. Migliore. Giallo. Elefante. Ora gattino. Unicorno. Bello. Ora verde. Giorno del cane. Questo è stato spaventoso. Miss Delight. Ai. Dog Day del cane per mio fratello. Ai. Incubo Uki. Wow. Tempo di cutnap. Sto morendo. Incubo cutnap time. Wow. Cos'è questa cosa? È il momento del secondo capitolo. Gatto. Giocatore. Onzo Bunny. Cat B. Questo è stato così spaventoso. Boxy Boo. Mommy Long Legs. Spaventoso. Girasole. Che diavolo. Ora Daddy Long Legs. Spaventoso anche lui. Dino. Non spaventoso. Paga a Pilar. Questo era spaventoso. Robo. Ora Poppy. Illuminato. Tempo di Ugi Wati. La mia testa sta tremando. Bentornato Dog Day. Ho infranto la regola. Ma abbiamo il prossimo aggiornamento Yaya. Wow. Sono fantastico. Ho un aspetto fantastico. Vediamo la grande regola finale da infrangere. Niente bomba Openheimer. Penso di essere pronto. Guarda qui. Aspetta no 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 no. Fermati 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 fermati. È troppo tardi. Dog Day è morto. Chi ha fatto questo? Smiling Critters. Abbiamo preso il controllo su di lui. No. Perchè sei entrato in lui? Ugi Wagi ci ha detto. Ok. L'ho solo spaventato. Ti ho preso solo per il tè. Ok. Il prossimo. Miss Delight. Stavo cercando di aiutarlo perché gli stavano tagliando le gambe. Aspetta. Cosa sta succedendo? È tempo di tagliarti. Fermati. È troppo tardi. Non ha le gambe. Perchè hai fatto questo? Tempo per te. Oh no. In cosa mi hai trasformato? Aiuto. Cos'è successo dopo? Qualcuno mi ha ucciso. Oh mio Dio. È così triste. Ok. Forse Catnab. Usavo il fumo per farli dormire. Catnab! Please. Help us go to sleep, Catnab. We need it. Ok. Allora si sono addormentati. Forse Boxee. No, ero solo arrabbiato con Catnab. Hey. Thank you. I hate this. Odio questo. Forse questo. Wow, sono perfetti. Wow! Give us a chance. Ok. Se non sei stato tu, allora forse Pluto Time. Dog Day controlla tutti i jumpscares dal capitolo 3, poi dal capitolo 2 e poi dal capitolo 1. Ok. Sarà facile. Bao Bao il primo. Era così spaventoso. Ora maiale. Il prossimo è giallo. Oh mio Dio. Ora blu. Ora viola. Mi sento così male. Ora è il momento dell'unicorno. Andiamo. E ora verde. Il prossimo è Dog Day. Ai. Ora la bambola. Continuo a sorridere. Non perdo la fede. Ora Dog Day. Oh mio Dio. La mia testa. Il prossimo è Ukiwaki. Vediamo. Ora è il momento di Cutnap. Ai. Il prossimo è quello grigio. Andiamo. Il prossimo è Ukiwaki. Ai. E ora il prototipe. Ai. Ok. Sono sopravvissuto. Quindi ora il capitolo 2. Oh no. Ok. Il prossimo è il gatto. La mia testa. Il prossimo è Player. Non so se sopravviver. Il prossimo è Bunzo Bunny. Cut B. Foxy Boo. Mamma è Papavero. Ora Fiore. Il prossimo è Daddy Long Legs. It's been sopravvissuto. Il prossimo è Pagapilla. Il prossimo è Robot. Potrei morire. E abbraccio. E ultimo. Pocky. Aspetta. Allora sei tu? No era Cutnap. S.M.I.O.D. vediamoci S.M.I.O.E. Salvatore Vecherla. Donzie. Potrei? Perdi the Dog Day è stato catturato e ho bisogno di controllare quale è reale, quindi mostrami il tuo jump start. Spaventoso e sembra vero. Secondo. Sembra reale. Successivo. Out. Ora questo. Per favore qualcuno mi aiuti. Il prossimo questo tipo. Molto reale. Ora il quinto. Sembra reale. Il prossimo. Ora lui. Oh mio dio. Spaventoso. Ora questo ragazzo. Ok, non ne sono rimasti molti. Il suo turno. Reale. Ora questo. Anche lui è reale. Il prossimo. Un po' sospetto. Un po' sospetto. Ora lui. Molto molto sospetto. Due rimasti. Andiamo. Aiuto. E l'ultimo. È totalmente falso. Morire. Mi sento aggiornato. Wow. Sembra più reale. Quindi ora mostrami la tua scena del gioco. Preciso. Ora lui. Era una scena molto spaventosa. Ok, il prossimo. Mi ha portato lì. Era buono. Ora tu. Così gli ho sparato del fumo. Un po' sospettoso. Tu. Ho usato tutto il mio potere. Non sospettoso. Il prossimo. Ora tu. Ok, ora questo. Non sospetto. E questo? Aspetta, questo è davvero sospetto. Mostrami la tua faccia. Pinguino. Non c'è modo. E cosa c'è sotto di te? Avevi questo nella pancia. Morire. Mi sento aggiornato. Wow, sembro pazza. Quindi ora mostrami cosa hai dentro di te. Smiling critters. Reale. Ora tu. Cosa? Non sospetto. Ora questo. Che cos'è questo? Paga Pillar. Sospettoso. Lui. Cacca. Ora questo. Famiglia Dog Day. Che può essere reale? Ora lui. Cani. Cani. Ok, il prossimo. Floppa. Ora lui. Prototipo? È sospetto. Il prossimo. Catmab. Non può essere reale. Ora lui. Mano di cane. E tu? Cacca. Ora lui. Pratti. E ultimo. Poppies. Questo è falso. Morire. Kissy Missy. Lo sapevo. Morire. Non ne sono rimasti molti. Quindi ora mostratemi le vostre voci. Ok. Ok, il terzo. Non male. Ora lui. Quinto. Sembra buono. Successivo. Figo. Tu. Aspetta. È falso. Freddy fa sveare. Lo sapevo. Aspetta. Sono caduto per aggiornarli. Wow. Sembro spaventoso. Oh mio dio. Ora tu. Figo. Tu. Ok. Il tuo turno. Prossimo. Il prossimo. Figo. Ora tu. E ultimo. Ok, siete tutti veri. Ora mostratemi le vostre facce. Lui. Prossimo. Griffin. Ok. Prossimo. Lenkybox. È reale ma sospetto. Voi. Dora. Strano. Successivo. Senza testa. Prossimo. Minion. Prossimo. Ragazza Fortnite. Ora tu. Drew. Ora tu. Catmab. Prossimo. Cosa. Tu. Che diamine. Non riesco a capire quale sia quello vero. Ok. Dog Day non aveva le gambe. Quindi mostrami le tue gambe prima di essere tagliato. Wow. Questo può essere vero. Successivo. Gambe di SCP. Strano. Mommy Long Legs. Gambe a fiore. Non assomigliano a Dog Day. Gambe di Missy Kissy. Wow. Questo è sospetto. Gambe robotiche. Abito e gambe di Poppy. Ali di pollo. Gambe di donna. Questo è davvero sospetto perché Dog Day è un uomo. Lo sapevo. Mommy Long Legs. Morire. Mi sento migliorata. Wow. Sono incredibile. Ok. Ora mostrami i tuoi disegni. Prima. Aspetta. Questa è la donna del giorno del cane. Davvero sospettoso. Tu. Ok. Bene. Tu. Buono ma strano. Wow. È divertente. Buono. Aspetta. Cos'è questo? Ok. Sta diventando sospetto. Ok. Bene. Bello. Wow. Aspetta Catmab. Perché mi hai disegnato? Fratellino. Morire. Mini Catmab. Morire. Aggiornamento. Wow ha un aspetto fantastico. Ok. Ora è il momento di usare la pozione. Wow. Successivo. Ok. Non è sospetto. Voi. Figo. Tu. Oh mio Dio. Cos'è questo? Spaventoso. Il tuo turno. Wow è pazzesco. Ora tu. Sembra un Freddy Fazbear. Wow. Ora lui. Wow. Prossimo. Ok. Non sospetto. Ora lui. Wow. È l'ultimo. Oh mio Dio. È Miss Delight. Morire. Sento l'aggiornamento. Aspetta. Cos'è questo aggiornamento? Sono una donna catnab. Ho bisogno di cambiare il prima possibile. Ok. Ora disegnami la tua cotta. Ho disegnato la mia cotta. Questo non sembra sospetto. Il prossimo. Ok. Questa può essere la tua cotta. Ok bello. Buono. Bene. Molto bene. Catnab. Il giorno del cane odia catnab. Sei falso. Morire. Aspetta. Mi sento aggiornato. Sono un robot ora. Quindi mostrami di nuovo i tuoi jumpscares. Prima. Aspetta. È falso. Morire. Lo sapevo. Ugi uagi. Ok. Il prossimo. Oh c'è un falso. Lo sapevo. Miss Delight. Ora tu. Oh. 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 Non c'è modo. Ora lui. Sei a livello 1. E per fare l'upgrade controlla le mie nuove creazioni. Oh. Cutnap. Dobbiamo aggiornarti. Andiamo. Certo. Ci penso io. Così spaventoso. Ok. Il prossimo è il giocattolo verde. Cane danese. Ho paura. Vai a fare cutnap. Non piangere. Ok. Il prossimo è cutnap. Wow. Si è spaventato. Ora è il maiale. Ai. Il prossimo giocattolo per cani. Sono rimaste solo due creature solidenti. Mi prenderò un giallo. E io scelgo il blu. Aspetta. Mi sento aggiornato. Wow. Siamo fantastici. Ora è il momento dell'incubo di ubi wagi. Il prossimo è il prototipo. La mia testa. Oh vigi. Ok. Ora è il più difficile. Cane alano. Ah. 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 Spaventoso. Il prossimo è boxy boo. Aiutami. Niente cutnap. Vieni qui. Ora mamma. Spaventoso. Ora papà. 4. 3. 2. Il prossimo è baby gambe lunghe. Ora margherita. Così spaventoso. Non ne sono rimasti molti. Ora bonzo. Ora bugi bot. Ora pissi missi. Non mi sento bene. Ubi normale. E ora ms. Delight. ci sentiamo aggiornati. Siamo uguali. Ora cutnap. Ora dobbiamo hackerare cutnap. Aiutatemi. Ora gatto. E ora gatto bianco. Non mi sento bene. E il prossimo è Dino. Cucciolo. Ok. Il prossimo è il carlino. Un pilastro. Mi ha mangiato aiuto. Prossimo abbraccio Lugges. Ora giocatore. E ora informa. Ora questo gioco. Oh mio dio. E ora questo tipo di cacca. Ora l'aggiornamento. Wow siamo così figli. Ok per ottenere i prossimi aggiornamenti devi scorrere da questa diapositiva. Primo cane d'ane. Ok. Andiamo. Aspetta chi è questo? Chi sono queste persone? Aiuto. Ce ne sono troppi. Ce l'ho fatta. Andiamo. Ora tocca a me. Aspetta. Chi è quello? Abbraccio di Lugges. Qualcuno mi aiuti. Spaventoso ma ce l'ho fatta. Aspetta. Ci sentiamo aggiornati. Sembriamo belli. Ok. Per ottenere i prossimi aggiornamenti devi vedere tutte le loro facce. Mi chiedo che aspetto abbia Ubiwagi. Cosa? Non è possibile che sia lui. La signora delizia è la mia cotta. Controlliamo. Wow è una ragazza anime. È ancora più bella. Il prossimo è Missy Pissy. Vediamo. È così bella. Smettila di fare il simpatico. Fratello. Il prossimo è Boxy Boo. Quello è il rock. Ora Ubiwagi vediamo. Non c'è modo. Come mi hai trovato? Non c'è modo. Ora Poppy. Vieni a baciarmi. Stop al cutnut. Ora unicorno. Ora cutnut. Lenky Box niente da fare. Ora maiale. Ora peluche dog day. Cosa? Ora peluche verde. Pagliaccio. Peluche giallo. Blu. Rosso. E questo è tutto. Ok. Prendi il nuovo aggiornamento. Sembriamo dei mostri. Quindi ottenere il prossimo aggiornamento per essere migliore. Ok. Ora dovete essere valutati per ottenere l'aggiornamento. Prima signora di Light. Ha spaventato il giocatore ma è stata uccisa. Vieni qui. Cosa? Aiutami per favore. Sono una brava persona. Davvero? Stavo scherzando. È stato brutto. Era legata come dog day. Si è innamorata di Cutnap ma lui non l'ha voluta. Era bella prima ma è cambiata. Che bella giornata. Cosa? Ho un aspetto orribile. Cosa mi hai fatto? Sei cattiva. Oh no. Il prossimo. Ciao. Ha sparato alla famiglia e l'ha distrutta. Ti piace? Sì. È così bello. Sonnellino. È stato cattivo. Ha sparato alla famiglia con il giorno del cane. Sei un pessimo essere umano. Stava lodando il prototipo. Ok, il prossimo. È stato ucciso da prototipo. Ha diversi jump scares. Sono le stagioni. Così spaventoso. Successivo. È stato mutato. Vai al bene perché ho paura di te. Grazie. Mi sento migliorato. Wow, sono un robot. Successivo. Incubo di Ugi Uagi. Il suo jump scare era dalla TV. Che bella TV. Che diavolo. Aiutatemi. Ha rubato il dog day alla sua TV. Come me? Ti ho preso solo per il tè. La sua famiglia era in pericolo. Giocatore, per favore, non farci questo. Lo farò. Tu sei buono per me. Ok, ora cane d'ane. Ok. Le sue gambe sono state tagliate da un prototipo. Le mie gambe aiutano. Aspetta, cosa stai facendo? Fratello. Le creature sorridenti sono entrate nel suo corpo e lui si è trasformato. Oh mio Dio, è stato spaventoso. Mi sento aggiornato. Wow, sembra un robot. Ok, per ottenere il prossimo aggiornamento, uccidili tutti. Ok, sarà facile. Primo abbraccio. Usiamo la scatola. Il suo morto. Ora mamma, mettiamola nel tritacarne. Ora catnap. Usiamo il prototipo. E il prossimo cani d'ane. Userò le creature sorridenti. E ora poppi playtime ceo. La mano. No, lasciami andare. Non ti preoccupare. Andrai nella fornace. Non lasciarmi andare. Non lasciarmi andare. Enjoy the fall! E ultimo papavero. Facile. Così ora l'aggiornamento. Wow, siamo perfetti. Valuta tutti questi jumpscare per vedere qual è il migliore. Inizia con Dog Day. Oh no, lasciatemi. Per favore, vai e basta. Correre. Correre. Abbraccio Wagi. Benvenuto a casa. So male. Bene. Ora lei. Ora creatura rossa. Ora rosa. Ora blu. Ora bianco. Ahi. Ora arancione. La mia testa. Ora verde. Ora giallo. E ora Ugi Uges. Il prossimo è Dino. Il prossimo è Dino spaventoso. Il prossimo è Paga Pillar. Spero che non sia spaventoso. Ahi. Non vedo l'ora che è ridica atna per prototype. Ora Bunzo Bunny. Ahi. Ora player ma con la maschera. Ora è gatto. Ahi. Ora Poppy. Oh mio Dio. Ha un aspetto inquietante. Il prossimo è il cane viola. Ora è il momento di Mommy Long Legs. Ha un aspetto strano. Ahi. Ora è il momento di Kissi Missi. E ora Kissi Missi ma con Poppy. Robot. Sembra così spaventoso. E Kili Billy. Guardate la sua pancia. Ora Ugi Uagi con prototype. Ora Daisy. Mio. Ora Boxi Boo. Ora questa cosa. Andiamo. E ora Daddy Long Legs. Andiamo. Ahi. Il prossimo è Ugi Uagi ma distrutto. Guardate la sua testa. È così triste. Andiamo. Ahi. Ora Cutmap. Questo è ciò che stavo aspettando. vuol dare 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 dare! Ahi, e ora Prototype, andiamo! Ora diamo vita a tutte le mie creazioni, entra dentro il bambino! Arancione o rosa? Arancione! Wow! Senza gambe o con le gambe, preferisco le gambe, oh no, mi sono ribaltato, ho perso le gambe come Dog Day, ora sorridente critters dentro o ratti, cosa? Preferisco le smiling critters, cosa ho di smiling critters, ora bocca Dog Day o bocca pixel, naturalmente Dog Day, wow così bello, ora Dog Day occhi o occhi normali, preferisco questi, wow così bello, ora catena Dog Day o catena normale, preferisco questa, catena wow così bella, ora questa mano o mano di cane, cane! wow così fresco, ora orecchie Dog Day o orecchie da coniglio, Dog Day, oh mio dio, sembro un gioco, ora naso normale o naso di cane, cane, wow così figo, ora coda Dog Day o coda ciano, Dog Day, acceso, ora Dog Day pancia o questo strano, Dog Day, bello! e l'ultimo diventa Dog Day, wow sono così spaventoso, ora capelli biondi o capelli neri, io preferisco quelli biondi, figo, ora nastro o cappello, nastro, wow così fresco, ora camicia blu con me là sopra o vestito fatto, camicia blu, così bello, ora scarpe rosse o nere, rosso, così fresco, ora vestito rosa o rosso, rosso, fresco, ora questa bocca o normale, preferisco questa, ora occhi normali o occhi di Miss Delight, Miss Delight, oh mio dio, ora questa cosa, wow, e ora sono diventata Miss Delight, wow sembro così spaventosa! bianco o blu, bianco, wow, ora crafty corn gambe o pantaloni, gambe wow, crafty corn pancia o maglietta con i baci, pancia, wow bello, ora crafty corn braccia o braccio con martello, crafty corn braccia, wow, ora crafty corn catena o catena d'oro, crafty, così cool, orecchie crafty corn o orecchie di elfo, crafty, yuki, bocca felice o bocca triste, felice, bello, ora capelli ciano o capelli biondi, ciano, wow, ora coda ciano o questa coda, ciano, wow sembra così bello, così ora diventa crafty corn, wow, verde o blu, blu, fresco, ora, questa testa sagomata o testa di orso, udia questa, wow, ora, denti spaventosi o denti lucenti, io scelgo quelli spaventosi, dannatamente, ora, bocca o labbra rosse, preferisco la bocca rossa, fresco, ora, gambe gialle o normali, gialle, wow, ora, guanti bianchi o guanti gialli, gialli, bello, ora, occhi neri o occhi blu, preferisco i neri, wow, ora, nastro o baffi, nastro, pazzo, e ora, televisioni o iphone, televisione, oh mio dio, e ora, sì, più spaventoso Ugi, wow, e ora, ancora più spaventoso, cosa sono diventato, questa tv è fantastica, fratello, questo negozio è strano, aspetta, e il giorno Dog Day? Andiamo lì, ciao Dog Day, sono un grande fan, per favore aiutatemi, cosa stanno facendo quei giocattoli, OMG cosa, OMG ce ne sono così tanti, aiuto, Carlos no, spero che Carlos stia bene e che questo cane sia solo un giocattolo, aspetta, aspetta, questo sembra buono, ah, lo prendo, fammi trovare un cassero, ciao, un catnab per favore, che diamine, sai che questo negozio è strano, ho giocattoli migliori a casa, mamma, papà, sono tornato, giocherò con i miei giocattoli, finalmente, aspetta, sono scomparsi, forse li ha presi mio padre, spero che non l'abbia fatto, aspetta, perché sono così grandi e sui muri, ehi, figlio, ci fai i noodles, va bene papà, ora ci proverò, nom nom, papà, ti è piaciuto, era disgustoso, no papà, mi dispiace, mi sto nascondendo qui, i miei genitori mi odiano, ma non mi arrenderò mai, e anche voi dovreste farlo, è ora di guardare la tv, un mechidiavolo è questo, credo che questa tv sia rotta, andiamo a giocare, welcome home, welcome home, welcome home, welcome home, I will return, the fat enemy, will try to fight it, the prototype's control, I am, the last of the smoke, home home, giocattoli, cosa stai facendo, sorpresa, veloce, costruiamo un muro, ok, fatto, vediamo le telecamere, oh no, mia sorella e la mamma, prossima telecamera, devo vedere se c'è una via di fuga, la telecamera è morta, ragazzi, non credo che uscirò mai da questa stanza, aspetta, questo è PopCat, Gregory dove sei? No, PopCat, aspetta, sta arrivando qualcuno, sono sopravvissuto, perché questo odore è così cattivo, ciao Gregory ho scoreggiato, fratello, dobbiamo uscire da questa casa, e ho un'idea di come, come Carlos, io sono Cutnab, che diamine, guarda, ciao a te, Cutnab come stai? Ugi lui è falso, io sono quello vero, Ugi controlla quale è reale, giusto, fammi vedere le tue sigarette che dormono, non male, punto per te, grazie, aspetta, che diamine, ok, ora mostrami cosa hai manciato per cena, non male, ora Cutnab secondo, punto per te, e infine la cosa più importante, Cutnab era una cantante professionista, non sono un cantante professionista, oh mio dio, così bella, ora ti faccio saltare in aria, aspetta, te l'avevo detto che era falso, torna indietro, mi ha preso, ah vieni con me ora, oh no, hanno preso Carlos, cosa gli faranno? entra nell'operazione, ora trasformiamolo in uno di noi, non mi sento bene, ora è il momento di prendere il prossimo, vedo qualcuno qui, veloce, Carlos salta qui sulla mia schiena, usciamo, aspetta, vedo Cutnab, no, Carlos, scappiamo, non mi sento bene, oh no, prototipo, no, per favore no, smettila, per favore, Cutnab no, è vivo, polizia, polizia, ho trovato dei muscoli, mostri in casa mia, hahaha, haha, ok, vediamo questi mostri, vieni, ti prometto che sono reali, qui, ma fai attenzione, bambino, questi sono giocattoli, non chiamare mai la polizia, sono giocattoli normali e sono molto arrabbiato, ti darò una valutazione negativa, dietro di te, non guarderò, non mi ingannerete, omg no, aspetta, quei giocattoli sono veri, omg cosa, Carlos, stai bene, aspetta, sento qualcuno, aspetta, cosa è successo, Carlos sei vivo, cosa è successo al mio amico, è morto, devo uscire e chiamare l'esercito, mia zia è una soldatessa di bacon, oh no Cutnab, oh no Miss Delight, al bagno, veloce, vieni qui, aspetta no, usciamo, Cutnab non hai fatto il tuo lavoro e ci hai tradito, muori ora, farò lo stesso con te e la tua famiglia se non trovi Gregory, come pagherà la tua famiglia per questo, ti prego, non farlo, lo troverò, Carlos se potessi rianimarti lo farei, inoltre ho preso in prestito i tuoi 10 Robux per il pranzo, ma non lo saprai mai, cosa, oh Carlos, aspetta, chi è questo, aspetta cosa, cosa, chissimi si fai qualcosa con lui, aspetta cosa, aspetta cosa, perché sto guardando un Cutnab, perché tu sarai il salvatore, ora per fare l'upgrade devi passare attraverso tutti i jumpscares, buona fortuna, oh mio dio, ok, allora vediamo il primo, così spaventoso, il prossimo è il ragazzo rosso, era così spaventoso, ma sono sopravvissuto, ora vediamo l'elefante jumpscare, ora è il momento del peluche di Cutnab, uguale agli altri ma viola, aspetta, sento il cambiamento, sembra buono, ora un icono, ok questo è lo stesso, ora Dog Day, spaventoso, ne rimangono solo 5, ahi, ora Ugi Wagi, Blood ha perso la faccia, questo era il migliore, ora Cutnab, sta diventando il numero 1, ora Dog Day, spaventoso, e l'ultimo, prototipo, vediamo, spaventoso, ma ora posso sentire l'aggiornamento, aspetta, mi sbaglio, ora posso sparare, mi sento figo, ok, per ottenere il prossimo aggiornamento, devi scivolare da questi scivoli, ok, veloce, dove sono, oh no, chi è questo, oh mio dio, oh mio dio, ce l'ho fatta, tempo di aggiornamento, sembro un po' un mutante, veloce la prossima diapositiva, Cutnab, dove sono, aspetta, chi è questo, no 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 no, torna indietro, gas, non mi sento bene, sento il gas del Cutnab, oh mio dio, ma aspetta, sento il prossimo aggiornamento, wow, sono mezzo oro Cutnab, così ora Dog Day scivola, wow, non c'è nessuno qui, ok, ultimo aggiornamento, oh mio dio, ho un aspetto terribile, spero che possa sconfiggere quei mostri, mancano tutti, ho bisogno di disegnare, ora Cutnab, fratello mi sento aggiornamento, wow, sono incredibile, ok, ora è il momento dell'introduzione, prossimo disegno veloce, oh mio dio, il prossimo è mancante, il prossimo è un Cutnab, fatto, e ora veloce qui, e l'ultimo Cutnab, oh mio dio, quindi ora Ugi Wagi S, out, la mia testa si è rotta, ora Dino, è solo il grado 2 e sto già morendo, ora paga Pilar, ora lui, stai bene, figliolo, nessun, giocatore, coniglio bonzo, chi è questo e te che è al ventitresimo posto, oh, do not turn me green, I am not a green, boxy boo, non ne sono rimasti molti, tu, ora lui, ai, ora papà gambe lunghe, ne sono rimaste solo 3, ai, 2, e l'ultimo, sono sopravvissuto e mi sento migliorato, wow, sembro così spaventoso, lascia che ti valuti, ha mostrato il suo utro al college show, ciao, ehi ragazzi, lasciate che vi mostri la mia memoria, come lo giudicate? ha lanciato coltelli a pami aveva amici arcobalino alla sua introduzione S.M.I.O.E. ha trasformato tutte le creature sorridenti in mutanti, vi muterò tutti, prima tu, oh mio dio, ora tu, maiale, oh mio dio, è uscito così spaventoso, ora pollo, disgustoso, ora verde, mio dio, cosa gli è successo, ora elefante, mio dio, così disgustoso, e l'ultimo, che diamine è questo? ora ti muterò, per me è stato brutto, era un genio della matematica e aveva un grande cervello, sì, sono intelligente, essere intelligenti è un bene, ma sei comunque un, bene, evviva, è ora di aggiornarsi, oh mio bene, sono così bello, ok, ora devo baciare qualcuno per fare l'upgrade, aspetta, mi dispiace o no, lascia che ti prenda, lascia che ti lavi prima che i genitori ti vedano, figlio devi buttare via quella cosa, I hate this, Bel lavoro, li abbiamo uccisi. Ora penso che sia un miglioramento. Wow, sto così bene. Aspetta, chi è questa? OMG è così bella. Vieni e inseguimi. Torna qui. Aspetta, cosa è successo? Trova quello vero e dopo ogni uccisione ti migliorerai. Quale dei due è vero? Prima vediamo la tua coda. Umme, questo è davvero sus. Lasciami tirare fuori. Lo sapevo, morire. Mi sento migliorato. Wow, sono epico. Ora, questo sembra un po' sospetto, ma non ti eliminerò ancora. Molti di loro sono sospetti. Aspetta, perché hai Boxiboo dietro di te? Mostrami la tua faccia. Boxiboo, lo sapevo. Ora fammi vedere i piedi. Ok, questo è normale. Ok, aspetta. Questo è sus. Buono. Questo è strano. Aspetta. Hai quattro piedi. Questo è strano. Normale. E tu hai dei piedi strani. Per me sei il più strano. Lo sapevo. Papà, gambe lunghe. Morire. Aggiornamento. Wow, sto così bene. Ok, ora mostrami i tuoi ricordi. Oh, wait a seconda! Ok, tu. S-M-I-O-E-L-T-O-N-E-J! When you are coming out, you don't even frown it. Tipo di sussi, tu. Ok, ora questo. I'll catch you a special guest. Blue! Woohoo! I hate it! Era sus. Il tuo turno. S-M-I-O-E-L-T-O-N-E-J! È stato un sus anche per te. Ora donna gattaiola dai capelli rossi. Fido, ora questo. Ora tu. Aspetta, questo è veramente sus. Mostrami la tua faccia. Unicorno. Lo sapevo. Mi sento aggiornato. Wow, sto così bene. Ok, quindi la prossima categoria. Mi fai impazzire. Catnap, do the trick for us. Yeah, do the trick, do the trick. Oh, you mean this trick? I don't know what it was. But something about that cat just made us all feel safe. Buono, tu. Oh mio Dio. Due a sinistra. E l'ultimo. Sei falso. Lo sapevo. Opiobscoach. Mi sento aggiornato. Oh mio Dio. Cos'è questo? Hold up. Wait a minute. Ok, ora disegnate voi stessi e mostratemi il disegno. Prima. Bene. Questo è sus. Quarto. Buono. Bello. Ben fatto. Aspettare. Questo è strano. Bello. Aspetta. Cos'è questo? Non è un sonnellino. E ho un gatto dolce. Morire. Finzi. Lo sapevo. Ok. Oggi è il mio compleanno. Quindi fammi vedere cosa hai preso per me. Cacca di gatto. Cosa? Sus. Tu. Freddy fa sbeare. Prossimo. Oh no, questo gatto. Non può essere vero. Prossimo. Abbracciare i woodgers. Ora tu. Ma no. Questo è sus. Prossimo. Oh no, cos'è questo? Ma questo può essere reale perché sa cosa mangio. Prossimo. Oh mio dio no. Avanti. Aspetta. Cos'è questo? E l'ultimo. Freddy fa sbear? Questo è falso. Morire. Mi sento migliorato. Wow. Sembro così gigante e buono. Ok. Ora mostrami la tua reazione quando ti togli la coda. Fumo ha tre colori? E strano. La seconda. Aspetta. Cosa? Perché ha un figlio di un giorno da cani? Strano. Terzo. Disgustoso. Successivo. Aspettare. Perché assomiglia a mamma gambe lunghe? Non importa. Prossimo. Aspetta. Ha vomitato un carlino. Che non può essere reale. Prossimo. Cuori. E strano. Prossimo. Disgustoso. Prossimo uno. Wow. Ok. Il prossimo. Drew. E l'ultimo. E' anormale. Ok. Ora voglio vedere i tuoi film. Aspetta. Sono tre film di Ugi Uges. Lo sapevo. Ah. Il prossimo. S.M.I.O.L.E. Non così tanto Ora tu Non male Ora lei Buono Ora tu Bello E l'ultimo Vediamo Non è la catnap woman Lo sapevo Mi sento aggiornato OMG ho tre teste Aspettate, questo è davvero un sus Mostrami la tua faccia OMG non è possibile Tempo di aggiornamento Oh mio, sembra così bello Ora la donna catnap aveva un salto molto alto con il salto più basso perde Oh no Sono il primo Blu così male Sono il prossimo Andiamo Bello Facciamolo Ah facile Sono il prossimo Cosa? Non c'è modo Io sono il prossimo E io sono l'ultimo Morire Aggiornamento OMG Sembro incredibile Ora ti ucciderò E vedrò cosa c'è dentro la tua bara Primo Buono Il prossimo Buono Terzo Bello Non sembra finto Quarto Questo è un po' sus Successivo Ok Successivo Ok Successivo Aspetta cosa? Mamma gambe lunghe Morire Ne rimangono cinque Quindi mostrami la tua mutazione Oh mio dio Il secondo Così buono Il terzo Un ragno Bello Il prossimo Aspetta Missy e Poppy Morire L'ultimo Ancora tu Cosa? Quindi ne sono rimasti solo tre Quindi ora mostratemi i vostri animali domestici Buono Il prossimo Sembra finto E ultimo Buono Ma immagino che questo sia falso perché ha le ali Ah E questa è la vera donna Kratnat Sì Sono io quello vero Yaya Vieni qui Sono in ritardo per la matematica Non posso andare più veloce Popka Sei in ritardo Mi dispiace insegnante Sono pronto a fare l'esperimento Aggiungiamo gli ingredienti Questo Questo esperimento determinerà se rimarrai in questa scuola Oh mio dio Cominciamo Popka Tu Tu Omme Hai fatto un lavoro incredibile Oh mio dio Prenderò A E Dannazione Nananana Ehi tu Omme Perché hai fatto questo a noi? Devo andare You're too slow Papà Papà ho preso a E Guarda Non ci interessa Perché? Devi essere veloce e non intelligente Sono così triste Nessuno mi vuole bene Cosa sono? Ho allucinazioni Ok andrò dai miei genitori e lo dirò loro Tra tre minuti andrei in gara con tuo fratello Umme Va bene Dovrei allenarmi La mia famiglia vuole che io cura molto Mas Questo cibo è incredibile Oh mio dio Era così buono Ciao papà Cosa ti è successo presto? Umme Il vincitore riceverà i giocattoli Ma se perdi sarai punito Ok andiamo Sarà facile 3 2 1 Like e sottoscrizione equivalgono a un osso per Pockat Figlio sono orgoglioso di te È stato facile Questo è per te Evviva Voglio di più Ehm Cosa otterrò Per averci provato Questo topo Oh così dolce Vieni da papà Papà Lui è un veleno Oh mio dio 10.000 Robux E per me? Un Robux Cosa? Ah solo uno Solo uno Voglio di più Va bene figlio Prendi questo figlio Grazie Non è giusto Basta Ah Ah noob 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 Ah noob Ora che faccio Ah Papà Perché? Sono così triste Voglio essere più veloce di Sonic Ma non posso Ah Sei un noob Cosa ha fatto alla mia stanza? Papà Ha fatto questo? No Sei tu Bobcat È troppo Ti cacciamo dalla famiglia Nooo Se vincerai la gara con tuo fratello Tornerai in famiglia Ah mai È troppo lento Sono così povero Cerchiamo qualcosa da mangiare Ciao Perché sei così grande? E nella spazzatura Hai dei Robux No Sto cercando la mia famiglia Possiamo portarti Iaiai Guarda Sono veloce Wow Come? Mangia questo E avrai gambe più lunghe Oh Ok Sono più veloce Dammi questo Ehm Chi è quello? Dammi questo Beans What the f*** Ha rubato i fagioli Ha rubato i fagioli Ah e adesso? Papà sono così veloce Grazie Mi sto velocizzando Tornerò dalla mia famiglia Nom 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 Perchè Oh mio dio Papà Questo è disgustoso Devo andare sotto la doccia Mi dispiace figlio Nessun problema Figlio Cos'è questo? Figlio Pensa che io sia suo figlio Cosa? Oh mio dio Era strano Oh Figlio la gara epica E tra dieci giorni Devi allenarti Ok Ciao papà Ti batterò in questa gara Guarda Sono veloce Imbroglione Cosa mi hai fatto? Non posso correre adesso Sono così arrabbiata Ah Ah noob Sono così triste Non piangere Figlio Ti aiuteremo noi Come? Oh mio dio Le mie nuove gambe Ah Diventerò così veloce Li ho trovati nella spazzatura Grazie papà Sono così veloci Mi allenerò con i migliori Ragazzo blu Lui è il più veloce Gareggiamo Ok Andiamo 3 2 1 Vai Non posso Hai vinto Grazie Vincerò questa gara per davvero Dobbiamo tagliargli le gambe Velocemente perché morirà Velocemente perché morirà Ho perso le gambe Ci dispiace Un altro modo per morire Sono così triste OMG Gara Gara Inizierà tra 10 minuti Ho bisogno di avere nuove gambe O provare una sedia a rotelle Ah ah noob Ah sei tornato Non puoi vincere senza gambe Perderò Fermatevi Ok inizio tra 3 2 1 Vai Abbarato Non vincerò mai Possiamo portarti Mangia questo Avrai gambe più lunghe Non piangere Figliolo Ti aiuteremo Figlio Ok papà Vincerò per te Ah Ora sono pronto Cosa? Ah Cosa? Non gioco più Sono letteralmente troppo veloce Ma mi piace Aspettare Sento qualcosa Dateci il vostro portafoglio No per favore Devo aiutarla Oh my god Non riesco a muovermi Ah Non puoi muoverti No way Tu sei Eggman Oh 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 Yeah Ma io sono Sony Ah Ciao È ora di finirlo Boom Ha distrutto Blue Coven Ho distrutto PopCat Ora è il tuo momento Dacci i soldi Ok Pensavano che io fossi distrutto E che potessero derubare tutti Eh? You're going to fall Grazie per avermi salvato Nessun problema Per te Oh oh Grazie ancora Nessun problema Ciao a tutti Grazie a tutti